Innanzitutto la domanda che si fa in questi casi è se è un punto guadagnato o sono due punti persi, viste le tante occasioni che avete avuto nel secondo tempo soprattutto. Sono due punti persi perché la Fiorentina ha fatto poco per impensierirci, ha sfruttato forse due controviati su nostre palle inattive, ha trovato il gol in maniera fortuna di una deviazione, quindi noi abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati, abbiamo trovato sulla nostra strada un grande Boruc. Difficile però andare oltre il rammarico perché veramente avete fatto di tutto, un numero di conclusioni incredibile, anche tu ci hai provato diverse volte, anche Giorgio con una mezza rovesciata, insomma, grande Boruc, però la Juve questa sera rimpianti tanti ma niente da rimproverarsi perché siete stati davvero sempre nella loro area. Come ti ho detto, la Fiorentina ha creato poco, quasi niente, noi abbiamo cercato di fare la partita, ci siamo riusciti, solamente che nel primo tempo abbiamo trovato un po' di difficoltà perché loro si chiudevano ed eravamo lenti nel gioco, nel secondo tempo è andato meglio, abbiamo creato tante occasioni, siamo andati vicini sia io che Giorgio, questo la dice lunga su com'è stata la partita. Tu che sei un difensore, ci sono due dati statistici che un po' sorprendono, che la Juve su 14 gol subiti, 11 le ho prese in casa e su 7 partite casalinghe per 4 volte andate in svantaggio. Come ti spieghi questi numeri? Molto spesso in casa siamo portati a fare la partita, quindi è normale, ci sbilanciamo un po' di più e magari possiamo subire dei gol che si potrebbero evitare, poi è normale, ci stanno anche gli avversari e magari vengono qui con il coltello e i tre denti per portare a casa un risultato impossibile quasi.